Ci aspettiamo sicuramente una partita tosta sotto tutti i punti di vista, anche perché il Benevento l'anno scorso ha fatto un campionato importante in Serie B, vincendolo praticamente con tante giornate d'anticipo e hanno un allenatore che è stato mio compagno di squadra, abbiamo giocato per tanti anni insieme, quindi lo conosco bene da un punto di vista caratteriale, quello che riesce anche a dare proprio alla squadra. Sta facendo molto bene, sono contento per Pippo, per quello che ha fatto l'anno scorso e per come ha iniziato la stagione. Grazie a tutti.